Li vedete qui tutti nelle mie mani, sto parlando di questi 5 smartphone, in questo caso 5 smartphone Android e per la precisione sto parlando di Asus Zenfone 7 Pro, di Huawei Mate 40 Pro, di LG Wing, di OnePlus 8 Pro e di Xiaomi Mi 10 Pro e oggi vi faccio vedere come scattano le foto, ma soprattutto vi racconto voi quali sono le foto che avete preferito da questi 5 smartphone quanti punti hanno preso e quindi alla fine anche chi ha vinto So che questi confronti fotografici vi piacciono molto, quindi se volete supportarci e spingerci a farne altri lasciate un mi piace a questo video e nel caso non l'aveste mai fatto e passasse di più per caso iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche Questi 5 smartphone ve li ho già raccontati ma ho pubblicato proprio qualche settimana fa un video esattamente come questo ma con altri 5 contendenti che erano per la precisione, li vado a rileggere iPhone 12 Pro, Sony Xperia 5 Mark II, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Vivo X51 e Pixel 5 Qui ci sono altri 5 smartphone, se dovessi dire chi è che è rimasto fuori, è rimasto fuori in questo caso probabilmente Oppo che però ho deciso di tirare in ballo in un altro confronto, magari vediamo scegliendo i vincitori di questo round e di quello precedente vediamo un po' che cosa ci inventiamo Quindi torniamo a noi, questi 5 smartphone, 14 foto scattate, voi avete votato queste foto senza sapere però quale smartphone le avesse scattate e quindi adesso andiamo a vedere foto per foto qual è lo smartphone vincitore Iniziamo con uno scatto in modalità notturna, in questo caso il vincitore con addirittura il 50% dei voti è quasi quasi la volta in cui c'è stato un risultato più schiacciante di tutti abbiamo appunto una preferenza per Zenfone 7 Pro e devo essere sincero, fra foto leggermente mosse, fra foto molto granulose, fra foto con i colori sbagliati sicuramente quella della Zenfone secondo me è migliore Foto numero 2, nella foto numero 2 devo essere sincero è quella con cui sono in più, sono più in disaccordo con voi Perché? Perché voi avete scelto con il 42,1% quella del Huawei Mate 40 Pro che secondo me forse ha il rosso più gradevole ma devo essere sincero non è quella, secondo me è la migliore perché i dettagli un pochino si sono persi ma è comunque una buona foto Questa è quella appunto, quella del Huawei che però avete scelto voi Passiamo allo scatto numero 3, foto al Lego con pochissima luce, zero luce naturale e poca luce artificiale e voi avete scelto con un bello scarto i 54% dei voti questa è la foto con il, la seconda foto anzi con lo scarto maggiore quella di LG Wing e devo dire che qui LG è stata furba perché ha aumentato, ha aumentato la luminosità della foto perché comunque le informazioni più o meno sono quelle non è che sia più dettagliata la foto ma ha aumentato la luminosità ed effettivamente la foto è più godibile non che gli altri smartphone non si possa tirare fuori la stessa luminosità editando leggermente la foto ma brava LG qui per aver utilizzato bene i suoi algoritmi nella foto numero 4 invece abbiamo una foto a Nian e qui ci sono risultati secondo me un po' altalenanti e devo essere sincero qui Nian non è stata proprio ferma 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 ma alla fine è un gatto, era difficile che fosse così e devo dire che il Mate forse l'ha fatta un po' troppo scura il Wing non ha messo a fuoco il punto giusto ed è abbastanza assurdo visto che c'è un gatto avrebbe dovuto riconoscerlo con l'intelligenza artificiale e il voto in questo caso va al OnePlus con il 41,3% dei voti e effettivamente è forse la foto migliore di questa serie nello scatto numero 5 foto all'esterna con buona luce in questo caso abbiamo di nuovo una vittoria di LG che probabilmente ha fatto la foto più bilanciata in termini di luminosità che appunto è un po' più luminosa delle altre devo dire LG spinge un po' di più sulla luminosità e in certi casi come questi e come quello del Lego faceva bene ma è anche un buon bilanciamento delle luci e una buona gestione anche della vividezza per esempio nello scatto 6 invece entriamo nel campo delle grandangolari e qui devo dire che ancora una volta come ogni anno Huawei è un passo avanti a tutto che si vede che ha palesemente il sensore più grande ha maggiore risoluzione il migliore nel campo delle grandangolari e infatti ha vinto con il 36.5% dei voti nel settimo scatto invece andiamo a vedere un selfie e qui devo essere sincero lo scatto dello Zenfone è venuto sfocato e devo essere sincero è stata anche colpa mia che non mi ero accorto di questa cosa finché non ho mandato online il confronto e questo sicuramente ha penalizzato un Asus che dalla sua ha delle fotocamere eccezionali che possono essere usate anche per la frontale sicuramente non avrebbe dovuto però venire sfocata questo è sicuramente un problema è un problema a cui tutti possiamo incorrere scattare una foto credendo che fosse a fuoco e poi scoprire dopo che non lo era quindi comunque potevo scattarne un'altra ma la verità è che al primo scatto ha sbagliato e il vincitore in questo caso è OnePlus 8 Pro con addirittura il 50% dei voti nella foto numero 8 invece troviamo uno scatto completamente contro luce e vince di nuovo e qui abbiamo il maggior scarto di tutti il OnePlus 8 Pro che fa una foto ovviamente molto contrastata ma questo contrasto è dovuto anche al fatto che ha tirato fuori più luce possibile dove la luce c'era e effettivamente la foto è più gradevole perché la foto appunto riesce a mostrare più dettagli invece di essere molto scura come nella concorrenza il 55.6% dei voti nella foto numero 9 invece tiriamo in ballo lo zoom 2x e in questo caso abbiamo la prima vittoria dello Xiaomi Mi 10 Pro e devo dire che guardando le foto effettivamente è probabilmente quella che ha tirato fuori più dettaglio lo si vede bene dalle tegole in fondo sul palazzo abbandonato e questo appunto è dovuto al fatto anche che ha uno zoom 2x non tutti gli smartphone in questa selezione hanno uno zoom 2x la foto numero 10 invece è con lo zoom 5x nel caso prima Xiaomi aveva vinto con il 32,5% anche qui però vince perché? perché ha anche una fotocamera 5x a disposizione con il 38,9% dei voti e in questo caso si vede per esempio come il Mate abbia realizzato una foto leggermente mossa mentre invece lo stabilizzatore dello Xiaomi in questo caso sembra aver fatto un lavoro migliore foto numero 11 macro al fiore con il 38,1% ha vinto LG Wing e sì anche qui sono d'accordo con voi è quella più bilanciata come luminosità come dettaglio come colori secondo me è la foto migliore di questa selezione nel caso della foto 12 invece torniamo a fotografare il Lego con poca luce e qui vediamo come LG non abbia fatto quello che ha fatto in uno scatto precedente aumentando la luminosità e in questo caso il premio va al OnePlus 8 Pro che vince con il 53,2% dei voti e questo soprattutto per un bilanciamento della temperatura un po' più freddo che forse è un po' più innaturale ma oggettivamente rende la foto più gradevole alla vista e più pronta per i social network che poi è un po' quello che questo test dimostra qui non stiamo necessariamente decidendo quale sono le foto migliori in senso assoluto ma quelle che piacciono di più a voi e poi appunto è quello che più conta forse nella fotografia da smartphone foto numero 13 una foto all'esterno con cielo nuvoloso e potrebbe sembrare uno scatto semplice ma come vedete le foto sono molto diverse perché tutti gli smartphone gestiscono una situazione del genere in modo estremamente diverso e in questo scatto vince LG Wing con il 28,6% ma a pari merito con OnePlus sempre al 28,6% e qui si vede come due foto abbastanza diverse abbiano comunque accontentato la stessa quantità di persone ultima foto invece è quella in modalità ritratto in modalità bokeh e abbiamo un vincitore netto che è Huawei con il 47,6% devo dire che probabilmente è perché è lo scatto che ha mantenuto meglio il dettaglio del volto ma anche un sfondo sfocato il più naturale possibile ok bene ma quindi chi ha vinto e quando si parla di vincitore di numeri di dati torna in ballo sempre il fantastico blocco note cartaceo chissà se un giorno in questo mondo così iperconnesso si troverà una soluzione migliore del blocco note cartaceo per cose come queste allora devo dire che è stato molto diverso se avete fatto i conti lo sapete già che ha vinto ed è stata una sorpresa assoluta in quinta posizione troviamo Asus con una vittoria in quarta posizione troviamo Xiaomi con due vittorie poi troviamo Huawei con tre vittorie LG con quattro e OnePlus con cinque tenete conto che LG e OnePlus hanno entrambi una vittoria pari merito e quindi in questo caso il confronto viene vinto da OnePlus 8 Pro ma come sapete c'è un modo diverso anche in cui è possibile calcolare questa vittoria che secondo me è anche quello più corretto se così vogliamo quello di sommare tutti i voti e capire quindi in percentuale quale smartphone ha preso più voti perché vincere in un singolo confronto vuol dire il giusto se magari uno smartphone è arrivato molto spesso secondo in questo caso abbiamo in questo caso una conferma del vincitore che è OnePlus 8 Pro con il 27,4% dei voti al secondo posto però non troviamo più LG ma troviamo Huawei con il 23,5% dei voti quindi Huawei non ha vinto in termini assoluti più volte ma ha preso più voti dello smartphone di LG che troviamo però in terza posizione con il 20,5% dei voti e cambiano invece le posizioni finali troviamo prima Asus con il 15,5% dei voti e poi Xiaomi con il 13,1% fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere cosa ne pensate anche di questi confronti e eventualmente se ne dovessimo fare un terzo come ho detto entro fine anno quale smartphone quali smartphone potreste vedere ripescati e tirati di nuovo in ballo per un confronto finale grazie per averci seguito ancora una volta se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche grazie per averci seguito un saluto da Emanuele Cisotti per mobileworld.it grazie a tutti